Buonasera, bentrovati con LIDER. Questa sera a LIDER parliamo di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, perché parliamo di giustizia in qualche modo, di tutela di coloro che operano in questo variegato mondo. Allora, noi quotidianamente testimoniamo di un disagio che si sta vivendo, nel senso che sembra quasi di essere in una terra di conquista, in una terra dove ognuno pensa di poter essere autorizzato a fare quello che vuole. Sembra di essere tornati al 1800, quando, che so, in America c'erano i pistoleri che giravano e scorazzavano, facevano quello che volevano perché tanto nessuno poteva fare nulla contro di loro, perché erano forse più preparati, erano armati e nessuno riusciva a controllare bene il territorio. Il famoso sceriffo spesso era messo in difficoltà. Però nei tempi moderni è concepibile pensare che un delinquente possa rivoltarsi contro un tutore delle forze dell'ordine e poi vantarsene anche, senza subire nessun tipo di processo, o meglio subirlo ma non pagarlo? Cioè questo accade oggi con la nostra situazione che direi è diventata paradossale. E allora noi quotidianamente, come dicevo prima, certifichiamo di aggressioni, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, insomma coloro che hanno una divisa, che sono stati formati per tutelarci noi e le nostre vite, vengono messe sempre in difficoltà se non rischiano la vita come spesso accade, subiscono danni che sono anche molto importanti sul fisico, ma non solo sul fisico, perché distruggono anche delle carriere. Allora per parlare di questo argomento che sta diventando allucinante, io vorrei dedicare nuovamente il leader con il contributo di un rappresentante delle forze dell'ordine del sindacato, del SIEP, il sindacato italiano appartenenti alla polizia, lui è il segretario di Catania, ha detto Tommaso Mendemia che ringrazio. Sì, grazie a voi, buonasera. E allora io ho fatto una lunga premessa perché sono sconcertato, perché mi rendo conto che da detto ai lavori, quando io devo scrivere un articolo su un poliziotto che viene aggredito, non solo aggredito fisicamente, anche verbalmente, e poi c'è qualcuno che se ne vanta è qualche d'uno che come organo di governo o di opposizione o della politica sottovaluta il problema. Cioè, ecco, che cosa voi addetti ai lavori pensate di questa situazione che sta diventando insostenibile? Sì, quello che pensiamo non lo possiamo dire, o perlomeno cerchiamo di spiegarlo, perché così aggetto quello che si pensa potrebbe essere anche un pensiero, diciamo. La verità è che negli ultimi decenni, per effetti, diciamo, della nostra società che si sta evolvendo in maniera molto veloce, dopo il Covid abbiamo avuto grandi problemi, ci sono anche studi che parlano della difficoltà che hanno i giovani in questo periodo storico e si sta riversando proprio su chi poi è il terminale dello Stato. Il terminale dello Stato sono le forze dell'ordine, cioè in proporzione la polizia magari ne subisce molti di più rispetto alla Guardia di Finanza che è meno presente nel controllo del territorio, però chi controlla il territorio, cioè polizia e carabinieri purtroppo si ritrovano sempre a confrontarsi in maniera aspra con determinati soggetti che pensano che ormai è tutto lecito. È lecito picchiare gli infermieri negli ospedali, è lecito picchiare gli insegnanti dentro le scuole, è lecito picchiare le forze dell'ordine. Quindi che cosa possiamo dire? Che non è più deterrente la divisa, non è più deterrente la presenza fisica del poliziotto, ma può essere aggredibile da chiunque. A questa componente ordinaria si mischia la componente straordinaria, ovvero quel pezzo di società invisibile che è formata da tutti gli immigrati che purtroppo per via di leggi o comunque di organizzazioni che non sono proprio eccezionali, oggi si ritrovano a bivaccare per le strade e quindi non sanno un po' cosa fare, sono frustrati, spesso escono fuori di senno e cominciano a inveire contro tutto e tutti e lì vengono chiamate le forze dell'ordine a proteggere i cittadini e a fermare questi individui. Ma perché vengono giustificati? Io la cosa che non voglio diventare impopolare. La violenza non è mai giustificabile, l'ho detto. No, dico no da parte vostra, io non voglio diventare impopolare, però se noi accogliamo delle persone, lasciamo stare che possono essere extracomunitari, che possono essere anche provenienti da altri contesti e non rispettano le regole. Perché c'è sempre un'ostinazione nel volere proteggere o difendere l'indifendibile? Questo è quello che passa come messaggio. Direttore, non è questo il messaggio che deve passare. Noi non stiamo proteggendo gli indifendibili, il problema è... Non voi. No, 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 noi come è stato. Noi, polizia, noi facciamo gli accertamenti e riferiamo, non è che non decidiamo nulla su strada, no? È la stessa discussione che si sta via via prendendo nelle questioni dell'ordine pubblico, nelle manifestazioni. Siamo il paese dove facciamo più manifestazioni degli altri paesi, più autorizzate, ma siamo quelli che subiamo più aggressioni, dove abbiamo più feriti tra le forze dell'ordine rispetto ad altri paesi. Però non si riesce a mettere un freno, non si riesce a legiferare in maniera opportuna con i tempi che ci sono. Allora, noi abbiamo un pacchetto di leggi che disciplina il comportamento dell'individuo nei confronti della società e anche dello Stato, che ormai sono vecchi. Quindi abbiamo bisogno di pacchetti nuovi. Significa dire che i protocolli operativi delle forze dell'ordine, che non sono comunque quei pochi che ci sono, protocolli operativi che noi diciamo negli istituti di istruzione non sono ovviamente recepiti dalla magistratura e quindi qualsiasi atto che viene compiuto dalle forze dell'ordine può essere ratificato solamente con quello che dice il codice penale. Occesso colposo di legittima difesa o uso eccessivo degli strumenti di coercizione fisica. Questi sono gli unici fattori. Poi ci sono le cause di esclusione che escludono a secondo le circostanze. Quindi questo sistema cosa comporta? Comporta che se ogni poliziotto che reagisce all'interno di un contesto operativo, comunque sia la magistratura deve aprire un fascicolo e deve indagare sui fatti che sono accaduti per sapere se tu sei estraneo o non estraneo. Questo comporta nel nostro sistema tutta una serie di problematiche. Questo è il primo punto. Il secondo punto. I soggetti extracomunitari che bivaccano nel nostro territorio non sono adeguatamente assistiti. Sono abbandonati. Sono abbandonati a se stesso perché se noi prendiamo le persone che vengono qui, hanno il visto per rimanere qui in attesa che vengono insomma riconosciuti determinati i loro profili, ma poi lo Stato non li sostiene, cioè non gli dà un'assistenza e quindi l'assistenza alla strada, i risvolti della strada sono questi. Quindi non è un problema di... perché una volta c'erano dieci extracomunitari, oggi ce n'è mille. Quindi il problema è che ogni città ha questo problema, specialmente le metropoli hanno questi problemi. C'è stato un periodo del nostro tempo in cui noi abbiamo avuto un'invasione di extracomunitari che non sono neanche tanti rispetto agli altri paesi, cioè noi siamo negli standard della Germania, della Francia, della... però il problema è che questi non riescono ad andarsene. Cioè noi ormai l'abbiamo studiato questo fenomeno, il fenomeno degli extracomunitari che arrivano in Italia è quello di non rimanere nel territorio italiano ad andarsene in Francia, in Olanda, nei paesi del nord. Purtroppo rimangono qui per questa diciamo problematica che abbiamo con l'Europa che dove arrivi devi stare. E questo è una situazione ancora peggiore perché... Dovrebbe spiegarlo a loro prima di partire. Perché il problema è che se io ho come mia aspirazione andare in Olanda e congiungermi con i miei familiari, ma arrivo in Italia e vengo bloccato e non solo vengo bloccato e non posso andare nei miei familiari, ma poi per giunto devo stare pure per strada, quindi mi devo sostenere, ma io non voglio stare qui, sono un precario. Abbiamo creato i precari e i dettagli extracomunitari. È chiaro che ci sono tante persone per bene che poi si mettono un po' all'opera e cercano di campare, come si può dire, in un paese come il nostro che è molto complesso, specialmente nelle grandi città. Ci sono quelli che invece si stabilizzano qui e cercano di trovare una stabilizzazione. Quindi abbiamo due tipi di immigrazione. L'immigrato che viene in Italia con l'intento di lavorare e fare base qui e sono tutti sistemati. L'immigrato che viene qui deve transitare, però rimane qui perché la Francia chiude, l'Austria chiude, tutti chiudono e rimangono solo in Italia. E questo è un fenomeno che noi stiamo subendo. Ed è una parte del fenomeno. Però è anche vero che la maggior parte di interventi che fanno polizia e carabinieri sulle risse, per esempio, tra ragazzi, oppure gli stessi ragazzi che vengono fermati. Stiamo parlando di persone per bene, no? Figli di persone per bene, che aggrediscono fisicamente i poliziotti e i carabinieri per non farsi fermare. Per cose stupide. Guardate l'ultimo evento che è successo qui a Catania e ho fatto un po' parlare a livello nazionale. I due ragazzi che non si sono fermati all'alto con l'SH sono fuggiti. Avevamo l'elicottero sulla città, li abbiamo fermati. Perché sono fuggiti? Perché minorenni? Su un motociclio senza assicurazione? Cioè, capisci? Rischiano la vita? Rischiano la vita per questo. E allora la responsabilità del poliziotto in questi casi qual è? Li deve fermare? Li deve inseguire? Non li deve inseguire? Cioè, non si capisce. Allora, tutto questo, e concludo, va a mischiarsi con quelle che sono le strutturazioni della polizia e dei carabinieri nel territorio. Abbiamo meno poliziotti e meno carabinieri sul territorio e questo non è fatto mai notorio. Ma li abbiamo anche mal equipaggiati. Perché ogni poliziotto dovrebbe avere il taser, come negli Stati Uniti d'America. Ogni poliziotto dovrebbe avere una webcam, ogni poliziotto dovrebbe avere un giubbotto anti-taglio, un sottocammice per essere chiari. E in Italia, purtroppo, tutto questo non avviene. Abbiamo un taser per turno, che significa dire che se ci sono dieci volanti, una volante c'ha il taser, gli altri non ce l'hanno. Abbiamo bodycam, non ne possiamo avere. Giubbotti anti-taglio non ce li abbiamo, perché se li avessimo il collega non sarebbe andato fino all'ospedale, fortunatamente all'ospedale, perché poteva andare a finire peggio, a Milano. Perché serve proprio per proteggerti dai difendenti del taglio. Non abbiamo i guanti anti-taglio che sono previsti nell'uniforme. Perché? Perché non ci sono soldi, perché ogni governo che viene poi li mette, poi li compreremo, poi li faremo. Quindi, se noi guardiamo, recentemente abbiamo visto dei poliziotto americani che hanno trattenuto e arrestato un italiano a Miami. Ora, sperando che non candidano pure questo qui in qualche altro posto, però posso non comprendere la reazione dei poliziotti che è stata parecchio volenda, però non so cosa ha fatto il ragazzo. Perché il sistema è diverso, i protocolli operativi sono un po' diversi. La cosa più simpatica del sistema americano, che poi si differenzia fra gli stati, ed è una cosa che noi dobbiamo prendere esempio, è il sistema cauzionale. Cioè, chi commette un reato può finire davanti al giudice e deve decidere o andarsene a casa e pagando una cauzione oppure andare in galera. Ecco, questi sono i deterrenti per evitare che il crimine si diffonda. Quanto meno il crimine predatorio, il crimine quello che dà fastidio, l'aggressività, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando né nelle indagini antimafia, né antidroga, né anti-estorsione. Stiamo parlando di... Microcriminalità, chiamano le due cose. Ecco, guardate che questo aspetto, che adesso è diventato molto importante, perché si sta addoffondendo in maniera anche corposa in tutta Italia, non fa altro che togliere forze di polizia dal territorio. Perché quando una volante che ferma un ragazzo per fargli un verbale del codice della strada e questo invidisce, aggredisce, il collega lo deve prendere, lo deve denunciare, lo deve portare in questura, si deve aprire un processo, deve andare a testimoniare. Cioè, perdiamo un mare di tempo appresso a un nulla. Infatti, è una cosa di basso profilo. Quando io manco a una volante per fare sta stupidaggine, ci sono due scippi in città, quattro rapine. Quindi, vediamo anche dall'altra parte della medaglia. Cioè, cerchiamo di dare una forza deterente al commettere questi reati con pene alternative. Cioè, il ragazzo, che è il ragazzo, il giovane, la persona che aggredisce il poliziotto, il carabiniere, che venga preso, messo davanti al giudice e deve decidere o andarsene a fare i lavori utili pulendo caserme, istituti di istruzione, carceri e tutto il resto, oppure se deve andare a casa pagando una lauta a cauzione se c'è i soldi. Io sono sicuro che la seconda volta non lo farà. Oggi, invece, il sistema cosa prevede? Che io ti denuncio a piede libero, piede libero, poi faranno un processo, se lo faranno, quando lo faranno. Nel frattempo l'ho fatto altre volte questa cosa qui, ed è tutto un trascinarsi, lì poi vediamo. Ecco, voi come sindacato siete molto attivi, molto presenti in Italia e le vostre richieste non le mandate a dire, cioè siete sempre sul pezzo per cercare di avere delle risposte da coloro che ve le devono dare, di fatto, il governo. Ma io dico, lo dico da cronista, ma è concepibile, è pensabile che il governo pensi ad altre cose se non invece alla sicurezza, alla sanità, al lavoro? Cioè, le tre componenti che sono essenziali, fondamentali, la sicurezza è possibile che ci debba essere un taser per un gruppo di pattuglie, che non ci sia la webcam come era stato detto per la sicurezza, che non ci sia una protezione seria per i poliziotti che vengono aggrediti sempre più spesso. Attenzione, io non voglio dire che ad aggredire i poliziotti sono sempre gli extracomunitari, eh? A noi ci mancavano gli extracomunitari per completare il fatto, perché ci sono i nostri piccoli criminali che forse, non lo so, per spirito di emulazione o perché qualcuno gli inculca dei pensieri che non sono corretti, questi non rispettano più la divisa, non rispettano più la forza dell'ordine e probabilmente non rispetteranno nemmeno i propri genitori, perché arrivato a questo punto, se arrivano a fare quello, vuol dire che non rispettano nessuno, sono proprio delle maniche torte, come potremmo dire. Però ecco, io me la prendo col governo che metta nelle condizioni voi di non avere gli strumenti essenziali. Allora bisogna dire finiamola di raccontare barzellette, cerchiamo le soluzioni, le soluzioni sono queste, e pene certe, magistrati che intervengono senza interpretazioni soggettive, ma leggendo bene le carte, mettendo nelle condizioni questa gente, parlo non solo delle forze dell'ordine, ma anche questa gente che è libera di fare quello che vuole, di, come giustamente ha sottolineato, una figura che si occupa quotidianamente del problema, ma voglio dire, pagate la cauzione, puniteli, metteteli a fare servizio civile, insomma facciamo qualche cosa, perché stiamo andando alla deriva totalmente, cioè questa è, caro mio, la situazione. Bisogna fare realmente qualcosa presto, subito? Non lo so se è possibile, perché noi siamo bravi a essere troppo burocrati, quindi mandare un pacchetto di sistemi di sicurezza del genere passa attraverso tutta una serie di situazioni che in Italia, per fare una legge, non è così semplice, così è complesso. I protocolli operativi delle forze dell'ordine non sono mai voluti essere un bavaglio per i magistrati, ma una regola certa su cui il magistrato si debba basare per fare una valutazione. Il problema degli extracomunitari è la differenza fra aggressione e aggressione qual è? Che mentre il soggetto che tu, diciamo il soggetto europeo, perché adesso abbiamo... Non puoi identificare, sai chi è, dove è... Perché sai chi è, lo puoi identificare, il soggetto europeo in generale, quindi può essere un italiano, può essere un polacco, un tedesco, un francese, solitamente quando ti aggredisce è perché c'è un motivo, no? Perché tu lo fermi o perché fa un furto o perché ha commesso qualche cosa, quindi lo fermi, la sua reazione potrebbe essere aggressiva e lì tutto sommato ci puoi anche mettere mano. Il problema degli extracomunitari che capita spesso, è successo più volte a Catania, dove i colleghi miei si sono feriti nell'intervento, è che questi soggetti non hanno queste reazioni perché hanno un problema con la forza dell'ordine e in quel momento lo sta controllando. Sono soggetti che hanno una loro paura interna e si scaraventano sulle persone, cioè minacciano le persone di fargli male, di fargli danno, quindi noi interveniamo per evitare che questi facciano male alle persone. cerchiamo di fermarli, cerchiamo di identificarli, si c'è da rimpatriarli, eccetera, eccetera. Il problema è che questi soggetti sono soggetti imprevedibili e quindi utilizzano sempre delle lame o oggetti contundenti, colpiscono senza guardare in faccia chi e chi non è, che sia poliziotto che sia libero cittadino. Lo abbiamo visto più volte nelle stazioni delle grandi metropole, lo abbiamo visto qui in questa città, dove spaccano i vetri solo perché si vogliono sfogare la loro rabbia, quindi interviene il poliziotto e aggrediscono il poliziotto, quindi lì abbiamo bisogno di un protocollo operativo più particolare e delle protezioni più particolari. Quindi il taser, abbiamo visto che il collega purtroppo a Milano ha sparato col taser, non ha subito effetti, gli ha sparato due volte, perché mi pare che il taser più di due volte non può sparare perché poi il taser è riuscito a centrarlo. Altro taser, quindi c'era un'insufficienza di taser in questo caso e poi come è andato operativamente non lo so, però il problema è che questo aveva una lama e ha colpito il mio collega. Doveva spararci, non doveva spararci, c'è il grande dilemma. L'indomani succede un altro fatto analogo, magari forse il collega che è intervenuto, preso da quello che era successo il giorno prima nella stessa città, nello stesso momento, ha fatto fuoco e ha sparato a questo egiziano e l'ha ferito. Fortunatamente l'ha ferito senza gravi conseguenze e quindi diciamo che la cosa è finita senza che ci sia scappato qualcosa di più grave, però gli ha sparato. Ora il problema è che il collega è indagato ovviamente come atto dovuto. D'accordo? Però l'atto dovuto in Italia costa e noi abbiamo difficoltà come ce l'hanno tutti gli italiani, quindi il punto della questione è che viene condizionato il poliziotto nell'intervenire. Allora, il problema principale non è tanto come dobbiamo intervenire, quando, cosa devi pagare, perché se sbagli paghi di persone, i poliziotti si autodenunciano, è successo a Pisa, anche se non ce n'era bisogno, a mio modo di vedere, per le reazioni che ha avuto la squadra del reparto mobile a confronto di persone che erano non autorizzate, che in altri paesi sarebbero stati trattati in maniera diversa, non autorizzate, lo hanno fatto apposta, hanno aggredito apposta, hanno avuto quella risposta, i colleghi si sono tutti auto-identificati, dice noi eravamo io, tu e l'altro, il magistrato farà le sue valutazioni. I firmati ci stanno, quindi non abbiamo una polizia molto aperta, molto democratica, non è chiusa, quindi non capisco perché non si debba mettere mano un pacchetto di norme che possa quantomeno garantire il tessuto sociale, cioè lasciando perdere che non possiamo noi rimpatriare tutti gli extracomunitari perché il processo di rimpatrio l'abbiamo più volte spiegato e molto complesso. Certo. Cioè prima dobbiamo sapere di quale paese vieni, poi dobbiamo chiedere al paese da tu, tu decidi di dire da dove vieni, dobbiamo dirgli se lo vuoi, se quelli non lo vogliono ci rimane a noi. Sostanzialmente questo è il processo, quindi anche se tu dici è un marocchino, però siccome arrivano qua tutti senza documenti, se non c'è il documento e lo puoi identificare, il Marocco dice non è cittadino mio e buonanotte sonatore. Quindi non sai dove rimpatriarlo, quindi lì è più complesso, però lì abbiamo un altro problema, proprio la deriva sociale, perché non è possibile che in uno Stato di diritto come il nostro tu vai nelle piazze e trovi tende, tendopoli, persone che, cioè non è possibile, mettete mano ai soldi. Ecco, e questa... Magari col contributo europeo... Bravo, e questa io lo dico polemicamente, l'ho sottolineato in vari aspetti, in vari approfondimenti, e il migrante, l'extracomunitario che arriva in Italia, che cerca la possibilità di cambiare vita, è ben accetto. Nessuno lo mette in discussione. Il problema che voglio fare capire a chi ci segue è che noi non possiamo permetterci di avere dei frustrati per strada, pericolosi perché uno che non ha pane, che è per strada perché non sa cosa deve fare, non si può congiungere con la sua famiglia, è abbandonato a se stesso. È chiaro che diventa un disperato che può creare parecchi problemi a tutti. Il punto è questo, che è cattiva ricezione di quello che è un problema. Il problema dei migranti, dell'accoglienza, non è che vogliamo accogliere per buttarli per strada o ai semafori. Vogliamo accogli per dargli dignità. Se non facciamo questo non dobbiamo accoglierli, dobbiamo fermarli perché se non è un problema, un problema serio per le forze dell'ordine, per i cittadini. E attenzione, noi abbiamo già la nostra delinquenza, attenzione a cui si fa fronte, però la delinquenza nostra è identificabile. Si può capire da che parte arriva, che cosa fargli pagare. L'extracomunitario che non ha documenti, che lui dice di chiamarsi in un modo che poi magari non è il suo nome o che dice di arrivare da uno Stato più che da un altro, come fai? Che tipo di sistema puoi adottare? Il punto è questo. Attenzione, non è che il problema sono solo gli extracomunitari, è uno dei tanti problemi. Il problema è la mancanza di strutturazione. A Milano è un problema. A Catania non è un problema, ma a Milano sì, perché a Milano c'è un grosso centro, sono grossi centri di extracomunitari senza fissa dimora, che il problema lo creano. Lo creano alle stazioni, delinquono, spacciano, cioè questo fanno. Non è che stiamo parlando noi di tutti i frustrati del mondo. Poi ci sono quelli magari che vanno fuori di testa, che fanno determinate azioni, fortunatamente non sono tantissimi, però quando lo fanno, fanno danno. E' fisico. Ora, il punto è che non si vuole mettere in ordine tutta questa cosa qui, tanto ci sono le forze dell'ordine che risolvono il problema. Cioè, il principio di questo nostro ordinamento, diciamo, allargato, è che tutto quello che accade, comunque sia, le forze dell'ordine sono terminali, sono fatti loro. Anche la cultura della sicurezza interna alle forze dell'ordine va rivista. Perché io ho diversi anni che mi batto, per esempio, all'interno della mia amministrazione, sul riconoscimento del lavoratore di polizia come lavoratore. Cioè, se ogni lavoratore italiano ha diritto a dei dispositivi di protezione individuale, se va a lavorare, degli incarichi ben definiti, se va a lavorare, di carichi di lavoro ben definiti, di protezione nel mondo del lavoro e quant'altro, ci ricordiamo che polizia e carabinieri, oggi, queste garanzie non ce le hanno. Se il collega si fa male durante l'intervento, si deve andare a pagare le spese sanitarie, quando tutto il resto d'Italia ha l'esonero delle ticket. Cioè, noi siamo ancora nel medioevo con questi... Lavoratori di serie C, non di serie B. No, non lo so più che lavoratori siamo. Cioè, non siamo lavoratori. Perché se vai nei take show, allora ti accusano come se fosse una cosa mia personale andare a dare il coppo di manganella allo studente. Ma io non lo conosco lo studente. Se mi aggredisce, è ovvio che io rispondo. Devi fare qualcosa. E se vado a fare un'irruzione a casa perché devo togliere un minore nella custodia dei genitori, diventa il cattivo. Cioè, noi diventiamo tutto quello che vogliono gli italiani. Ci siamo? D'accordo. Però se ci mettiamo pure tra le beche politiche che nascono, forse dell'ordine, che sono diventati fascisti da quando c'è il governo Meloni. Facevamo più manifestazioni quando c'è il governo di sinistra. Però voglio dire, è tutto diventato una cosa insurreale. La polizia è un organo democratico dello Stato che ha sempre svolto il lavoro con democrazia e trasparenza. E se le manifestazioni oggi si fanno, si fanno grazie alla polizia. Io questo non riesco a comprendere. La libertà di espressione c'è ed è autorizzata. C'è. Ognuno può parlare. Non mi deve credere. Siamo la Stato più libero del mondo. I giornalisti possono fare. Si parla di censure, si parla di questo, si parla. D'accordo. Possiamo fare tutte le beche politiche che vogliamo, li comprendiamo. Ma perché tirare dentro le forze dell'ordine? Specialmente i poliziotti. Perché non ho mai sentito in un deck show. Dire qualcuno? I carabinieri hanno fatto. Cioè i poliziotti. L'altra volta c'è stata l'aggressione a Roma nella festa del libro. C'erano schierati i carabinieri e cercavano di spondare quella... I carabinieri che mandavano. I poliziotti hanno picchiato. Cioè non dico che i carabinieri picchiano di meno, picchiano di più. Non è questo il punto. Però c'è come una forma diciamo automatica, automatismo, per dire i poliziotti sono del governo Meloni, così come sono di Salvini, come sono di Sacchi. Sì, perché dipendono dal mistero degli interni e quindi... Io penso che in televisione vadano a fare deck show personaggi che siano quantomeno intelligenti, no? Allora andare a stendere tutti questi professori... Insomma, rinutro se ridubbi. Cioè noi abbiamo querelato il professore Rossi. Polemicamente rinutro se ridubbi. Allora, il segretario generale del SIA fa querelato il professor Dorsi. Perché nella trasmissione ha detto che i poliziotti di Pisa erano tutti drogati. Addirittura. Sì, perché io trovo il poliziotto dai coppia di Vanganello perché è una sottospecie della società perché vedeva davanti a lui tutti i laureati e lui non si poteva laureare. Cioè io non so in quale paese vive Dorsi. Noi abbiamo una classe di laureati nella polizia. È un allucinato. Siamo allucinati. Allucinato questo tizio. Sì, ma siamo allucinati un po' tutti perché quando vai in ogni tech show che trovi, o comunque una tribuna politica sostanzialmente, ti ritrovi sempre due forzioni contrapposte su questi temi e si parla dei poliziotti. Cioè parlate di altre cose, non parlate dei poliziotti perché la gente che ascolta dice allora è poliziotto Manganella. Cioè non abbiamo Manganelli, vi do una notizia. Non hai mai avuto i Manganelli. Poi la polizia italiana non ha Manganelli. Non ha Manganelli. Anzi, d'ora in poi si metteranno con gli scudi e si metteranno con le facce così per farsi dare sputti e schiaffi. Perché così almeno lì si riprendono. Direttore, ci sta. Nelle manifestazioni dagli anni 60 ad oggi il poliziotto messo lì a schieramento perché la differenza fra un tempo e adesso è che il poliziotto una volta caricava. Adesso è messo in contenimento. Perché non è di caricare. Devono essere proprio fatti eccezionali per caricare. Non c'è motivo di caricare. Cioè il contenimento. E ci sta che il manifestante vuole passare da questa linea Macinò. Ma ci sta che il poliziotto non ti fa passare dalla linea Macinò. Mica ti può sparare. Non passi. È chiaro che se tu mi aggredisci con bottiglie e moto eccetera eccetera io reagisco. Allora oggi con questo governo attuale noi siamo nelle linee di contenimento. Ieri eravamo con gli idranti. Cioè mi ricordo a Porto di Tieste le persone che stavano manifestando. Siamo andati con gli idranti direttamente. Quelli erano seduti a terra se vi ricordate. Oggi siamo nel contenimento. Cioè significa dire che noi ci mettiamo lì. Ci sono delle direttive ben precise di contenere. È ovvio che se però io faccio il contenimento e tu mi vieni con i bastoni. È chiaro che poi parte la carica d'alleggerimento. E se parte una carica d'alleggerimento il problema è sempre lo stesso. Quelli che stanno lì non sono i manifestanti. Sono gli infiltrati della manifestazione. Quindi cosa succede? Siccome sono professionisti appena parta carica questi se ne vanno e rimangono i fagioli. I fagioli si pigliono le botte. Allora io voglio chiudere con un pensiero che riguarda la nostra cultura religiosa. Perché quello che dice Tommaso Vendemia del SIAP è tanto vero che richiama a duemila anni fa quando un gruppo di scalmanati decise di crocifiggere Gesù. C'erano gli infiltrati che fomentavano la folla dicendo liberate, liberate Barabba. Non erano. Quindi liberarono Barabba e crocifiggero Gesù. Ecco il punto è. Bisogna stare molto attenti. Le forze dell'ordine con un lavoro certosino cercano di capire chi sono gli infiltrati e che possono creare i presupposti per la guerriglia urbana. Però è fondamentale sottolineare un aspetto. Dobbiamo smetterla. Le forze dell'ordine sono lo Stato e meritano tutto il nostro rispetto. Anche perché sono figli, fratelli, sorelle, genitori. Appartengono alla vita, alla nostra vita. Quindi sono lavoratori che devono essere tutelati come gli altri. Non così perché sono poliziotti e non devono essere tutelati. E questa è una cosa allucinante e vergognosa. Mi auguro che cambi veramente qualche cosa. Noi continueremo a parlare di questo problema senza voler essere, come si dice, capziosi o pensare di fare... No, lo facciamo perché crediamo che le forze dell'ordine debbano essere rispettate perché rappresentano la legge. Io lo dico a voi, cercate di non dimenticarlo. Grazie a Tommaso Vendemmia per questa chiacchierata. Speriamo di aver smosso un po' di sensibilità diffuse su tutto il territorio nazionale. Appuntamento al prossimo leader. Intanto vi ricordo le nostre coordinate. Voi potete anche scriverci, siete liberi di poterlo fare. La redazione è chiocciola spazionotizia.it oppure se vorrete potrete anche telefonarci con i vostri messaggi whatsapp al 379 224 2420. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a Tommaso Vendemmia.